come la chiamo? puoi chiamarla puntata cinema vado? puntata cinema prima e siamo giunti alla decima puntata di cashmere un podcast morbidissimo a qualcuno di voi potrebbe essere mancata questa introduzione nell'ultima puntata perché cosa è successo? lo chiederei al giovane ragazzo che fa i video qui allora raga scusatemi purtroppo me so sbagliato con gli ultimi otto minuti avevo due tracce l'ultimo album de sfera e la vostra intro mo nell'album nuovo de sfera che si chiamerà originalmente hollywood famoso rock star special ce stanno 5 minuti c'è sta la smr va bene raga ma avevate pure caccato il cazzo con sta smr che fate all'inizio da puntata l'ho tagliato proprio si cazzi adesso facciamo 10 minuti tutti quanti così dove diciamo solo tayr piano piano stai attento i render devi camminare con le spalle al muro quando esporti la puntata controlla i primi 5 minuti hai qualcosa da dire? è vero tayr si è scusato moltissimo tayr si è scusato col nostro pubblico hai qualcosa da dire per questa puntata? no no nulla ma ti è successo anche altre volte tipo stavi girando dei video hai saltato i primi tutti che dicono ma sto video di sfera dura un minuto e 12 secondi cioè entra in media stress non c'è quel prologo importante in cui lui ci spiega che i soldi che ho sono quello che no è già povero è già tornato povero è tornato povero che credo fra 26 milioni di anni non basterebbe un'era geologica no 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 non importa abbiamo rifatto oggi la smr con particolare morbidezza e perché? è perché oggi ci sentiamo così morbidi? oggi siamo particolarmente morbidi perché è successo quello che quello che avevamo detto quello che avevamo richiesto quello che ci ha messo anche un po' in difficoltà perché noi abbiamo aperto la prima puntata dicendo faremo questo podcast con l'obiettivo di farci regalare dei maglioni e questa cosa la decima puntata signori è accaduta è accaduta e abbiamo detto smetteremo anche di fare il podcast smetteremo ma noi come si fa in politica abbiamo cambiato perché per convenire ci stiamo divertendo molto a fare questo podcast quindi ci rimangiamo quello che abbiamo detto continueremo a farlo e ringraziamo ringraziamo zerbi maglieria ringraziamo in particolare martina che con la mamma elena e lo zio massimo portano avanti un lavoro iniziato al nonno nel 1963 tra l'altro gli amici che ci hanno regalato questi splendidi maglioni che vedete più altri due che tireremo fuori al momento giusto sono di piacenza quindi a voi io ma in particolare saluto quindi fighi allora che è il saluto tipico piacentino fighi non fighi è perché si perde la a sotto il po' si perde la a e diventa fighi che non so cosa voglia dire ma fighi è quello che ho detto quando ho messo questo maglioni posso dire che si sente la morbidezza è dal 1963 senti qua io poi sono in pandan con la tovaglia sto benissimo edoardo sembri una nespola con la camicia di jeans e ma guarda quello che ho sempre voluto essere no veramente ringraziamo moltissimo grazie davvero cioè non era per niente scontato no davvero per noi è una soddisfazione enorme ricevere omaggi del genere dei nostri fan e non è l'unico che è arrivato in questa puntata a sorpresa invece da milano abbiamo ricevuto da lilith nitwear io qui farei un po' una sorpresa sì esatto va anche indossato in un certo modo qui non parliamo non parliamo di cashmere parliamo di parliamo di c'è scritto c'è scritto per ognuno ha fatto una cosa diversa ma certo allora a me è stato scritto allora per te è pura lana vergine e invece per me eco pelliccia vergine come me eco come edoardo a me è stato detto a per google earth mi è stato detto ma ci pensi se erfaina e jamiro quei facessero una linea di abbigliamento insieme signori direi che quel sogno nel mio ha detto una cosa per me grande eleganza pura lana vergine blu come il mio sangue bauscia adatta ad ogni occasione dal pollo da di giannasi in corso lodi che salutiamo agli after party di facile.it gli after party sono tranquillissimi però sono i party l'after è tranquillo ringraziamo tantissimo noemi di lilith nitwear che ci ha omaggiato con questi copricapi meravigliosi io non ho mai posseduto un copricapo del genere e questo lo dico a cecilia ma tra l'altro sono bellissimi se veniamo fotografati per google earth dall'alto qualcuno zuma 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 legge figa dai guarda le due città ci dovremo mettere nel centro di milano e nel centro di roma e allora siccome poi vedi so che tahir e carmello potranno fare la loro richiesta perché anche loro saranno sistemati stai già mandando già inviata veramente ringraziamo moltissimo i nostri sponsor perché grazie davvero ragazzi ci avete fatto un 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 regalone io questo non so dove lo metterò siccome le avete detto è molto più maschile del mio non è più la signorina ma forse stai iniziando a capire i ruoli di questo podcast perché spesso veniamo così come i nostri fan li stanno capendo esatto e grazie mille io ci tenevo a dire questa cosa volevo salutare doretta dello studio dentistico grillo perché dopo quattro anni se l'ho andata a fare perché sono sono una anch'io grazie grazie primo applauso di cashmere grazie mille a doretta che mi ha fatto la pulizia di denti dopo quattro anni quindi come sfera posso fare vittima del body shaming quando si dice che poi influenza le coscienze luca si è fatto la pulizia dei denti solo per i commenti che voi gli avete ingratitamente mandato se mi dite di accorciare il cazzo lo faccio rimangono comunque 37 centimetri quindi se ne tolgo la metà che scrivete dunque siamo a metà febbraio ti ricordi l'anno scorso metà febbraio appena 12 mesi fa stavamo tutti a dire ma te pare che sto cazzo del covid ma che io prendo per San Valentino Acquastro non quello che dicevamo noi ma ci permetteremo esatto tubi di baci perugina ed eravamo però al cinema e eravamo sì perché febbraio a febbraio ancora erano aperti no e soprattutto febbraio è uno dei tre mesi dove top top la zona calda la zona calda dei film riescono un sacco di commedia qual è la prima volta che hai sentito parlare del cinema nella tua vita beh ne ho sentito parlare molto presto molto presto vabbè chiaramente tutti i bambini scoprono il cinema con i film della disney e oggi pixar io ricordo esattamente quando io ho detto alla mia mamma un ricordo nitido io che le chiedo cos'è il cinema mia madre mi prende e mi porta a vedere la bella addormentata al cinema nuovo arti di milano cinema che ha chiuso perché era un cinema per bambini in cui ogni tanto andavano anche degli adulti senza bambini a controllare se ma vedo che quel bambino è là e allora è abbastanza distante perché io possa ma questo è prurito e poi è fantastico quindi no abbiamo visto la bella addormentata io ricordo allora ecco una delle prime scene che ricordo del cinema è vedo con mio papà fantozzi vince la lotteria di capodanno e una delle prime scene che ricordo è lui che beve il bicchiere col veleno per suicidarsi lo poggia bicchiere ovviamente umido sul biglietto della lotteria beve attraverso il fondo del bicchiere legge che il numero del suo biglietto è quello che sta chiamando la televisione in quell'istante e quello è proprio forse uno dei primissimi ricordi che ho del cinema e qual è l'ultimo film che hai visto prima che chiudessero l'anno scorso ho visto a marzo insomma febbraio mi sa ho visto il bellissimo straordinario film di massimo venier e aldo giovanni giacomo che è odio l'estate che è un capolavoro un film bellissimo movimento emotivo struggente inizia in un modo ti fa divertire e veramente guardatelo è veramente bellissimo ma mi sarei aspettato che loro a questa età sarebbero riusciti a cavare un film così bello e così commovente e l'ultimo film che ho visto al cinema tair quel film l'ultimo che hai visto visto Avengers Endgame eccoci qua quando è a febbraio no scorso anno appena uscito proprio in diretta con l'america tutta la maratona ci siamo fatti te sei sparato ad Avengers Endgame schioccami stedita sparisci perché faccio sparire tutti i pezzenti del mondo questa è una citazione per chi ha visto Avengers io no ma ho visto quella parte neanch'io Carmelo Inception hai visto era da tanto che non andavo anche tu al cinema dei piccoli l'hai visto Villa Borghese no non lo ricordo non ti ricordi c'è la battuta meglio doppiata del mondo in Inception che è quando Ken Watanabe dice un sogno dentro un sogno ottima idea e da lì hanno preso il doppiatore per fare pubblicità su zucchi anche tu mi sa che allora o tolo tolo o qual era se no o parasite non mi ricordo quale dei due belli indovina dove il cinema era più pieno non te lo dico non te lo dico ancora uno di questi due parasite comunque quando è uscito per lì è riuscito per gli visto al secondo giro bello particolare ma tolo tolo bello particolare pure quello io ricordo le parole di un ragazzo che conoscevo fuori dal cinema al Barberini sono il migliore suo comunque ha detto oddio certo pure no no di tolo tolo ha detto questo film è beh questo questo non è per noi noi già le sappiamo queste cose ma chi era un ragazzo che conosco bene e ha detto questa battuta sono un po' infelice perché pensare questo di un film non è per noi noi già queste cose le sappiamo queste cose le sappiamo che neri sono buoni e bianchi che ecco ci ha voluto fare questa lezione ma io ero già questa cosa l'avevo già studiata però mi sono divertita l'avevo sentita su rai 3 questa cosa che ne erano buone e quindi mi sento erudito per questa ragione sono il più bello suo è qua vado qua vado sono d'accordo hai ragione risate vere sincera bellissimo grande cinema grande cinema ma ti manca un po' la sala ti manca l'esperienza stasera se fanno il cinema domenica sera bellissimo sì 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 mi manca molto qual è il cinema tuo dei riferimenti a roma allora beh per anni sono andato frequentando prati giulio cesare giulio cesare adriano e eden quando volevi vedere il filmetto di un certo tipo poi avevo riscoperto adesso lantares che ho dietro casa a montesacro e questi questi sono i miei in assoluti miei cinema il mio preferito doveva regalarmi guilty pleasures tipo anche avengers da solo lo facevo e lux andavo lì prendevo popcorn e coca 11 euro 7 e mezzo quello jumbo poi film e mi sedevo lì al freddo dell'aria condizionata bellissimo brutti al popcorn sì 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 una cosa stupenda e poi più pubblicità ci sono più sono felice è vero è vero perché anche quello è il fascino è la pubblicità all'inizio dei film è una cosa meravigliosa a roma può durare 20 minuti per chi va al cinema a roma sa che è troppo bello quando becchi non circuito cinema ma l'altro è la pubblicità di raf raf in prati il tuo locale di riferimento pequanno è finito da narcimena raf è carne danese di prima scelta è pizza cotta a legna pizza cotta a legna camerieri pure simpatici raf a due passi da qua in prati non annate all'altro andate a raf sì 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 esatto qual è il tuo cinema di riferimento tayra l'adriano o il reale reale a trastevere certo l'adriano quindi ti piace tutta la ressa tutte le persone però cazzo l'adriano c'è grande fascino è devo dire però aspetta per determinati film soprattutto i marvel quando c'è l'anteprima e tutto ti spari l'imax extra extra lusso poltrona del luci cinema brava che costa di più bravo bravo ma quanto è volgare parlare di soldi perché devi stare otto ore là certo invece al cinema milano il più snob penso del d'europa sia l'anteo l'anteo cioè la sala la sala proprio sembra la sala degli stronzi ci sono diversi tipi sai che la cacca ha tante forme anche lì puoi scegliere che tipo si trovi proprio le signore le signore questo veramente non riesco più a fare il milanesi beh veramente no veramente questo film sugli immigrati mi ha aperto il mondo ma era tolo tolo signora appunto era proprio un film per noi questo regista questo regista immigrato che ha fatto un film sugli immigrati no signore pugliese appunto ma la maschera è roberto vecchioni perché è vestito come scusi ce le ha le bomboniere magnum quelle gelatine mi frizzano i denti però dia dia allora manifesto della borghesia italiana è scaffalone con tutti i vhs che uscivano con l'espresso dal numero uno al numero 100 l'espresso da una parte dall'altra la stazione papà l'unità bravo l'unità esatto è bello vhs che se sbagliava mettere quello non mettevi brisbee il segreto del lim 5 minuti che brutto poi si entrava la tipo forse una prima delle delle prime cose soft core che ho visto è stato l'into brass con l'unità si a casa di amici tra l'altro la copertina il vhs faceva intravedere qualcosa la chiave o bigas luna con una grande laura morante che fece film anche con valeria marini peraltro bigas luna certo la famosa andò a venezia dove lei si infilava in pertugi nascosti nel tolo tolo una murena mi pare un anguilla questo non lo ricordavo e vale la pena recuperarlo questo momento ciao valeria ti salutiamo ti salutiamo e chissà che un giorno tu non possa sedere qui noi a cashmere noi ce l'auguriamo abbiamo visto che i miracoli accadono e noi questa è un'altra cosa nella quarta cinema cinema magia magia straordinaria ti ricordi che rottura di coglioni cineforum al liceo mamma mia veramente ma tre quarti li facevo fattissimo sì sì anche perché rivedere l'odio per la 106esima volta mamma mia vince anche a sé la cosa che faceva comunque il gangster così e poi dieci anni dopo il lusso è un diritto miliardario stupendo la parabola di questi attori è meravigliosa ma invece era bello quando si vedeva il film impegnato alle medie perché saltavi due ore e vedevi il grande dittatore miracolo a milano carrellino si metteva in mezzo vhs si tiravano giù le tapparelle si spegneva la luce si iniziava a vedere il filmone e vittorio de sicca a 13 anni lo mandavi giù come un bicchiere di petrolio e sempre però scusami carrellino ecco ricordo che ho del liceo senti lontano è proprio il suono del disimpegno non facciamo un cazzo e arriva vhs partire sempre ma questi vhs non partono mai non li so far funzionare poi arrivava quello di classe un po che provava smanettare niente dobbiamo chiamare pasquale pasquale arrivava questo purtroppo è meglio perderli che trovarli smanettava un po e poi però alla fine partiva pasquale doveva essere interrotto mentre fumava la sigaretta e come ci sta arrivando avevo il compagno di classe con il l'orologio con il telecomando mai sentito no ho capito e quindi lì quando ci facevamo vedere non so tutankamon dei film strani faceva delle magie che spaventavano i professori ah cioè lui spostava e che era un orologio c'è un telecomando universale pensate che era quello che faceva la melicuni credo la casca la brondi esatto la brondi la vasco brondi con i tasti grandi no quello era il momento in cui i professori si facevano i cazzi loro quindi parlavano dei problemi con la moglie o col marito e ci lasciavano lì abbandonare però era bello poi parlare fare la scheda del film l'educazione al cinema tu non hai pensato di studiare cinema faccio questa domanda no onestamente no cioè quando poi mi sono appassionato a mestieri alternativi non era la mia prima scelta non ho mai pensato di iniziare a studiare cinema proprio subito ho pensato a fare la il comico io ho fatto tu invece fatti il 100% sì però prima ho fatto una scuola di cinema privata poi facciamo i cortometraggi i cortometraggi i primi cortometraggi pensavi di essere un genio di ad up del cinema più o meno sì poi dopo per fortuna hanno preso il centro e i primi corti assomigliano in modo incredibile per chi li ha visti i cortometraggi di prodotti da gucci diretti da gas van sant girati in italia adesso quelli che sono scili qualche anno fa sembrano i corti di uno studente di vent'anni con i soldi dati dalla famiglia che va a studiare sono una merda ma una merda quella roba di veramente guardatevi se vi capita perché vi fanno ripensare che le vostre velleità vanno rispettate non ci devi pisciare sopra come ha fatto il direttore creativo di gucci facendo delle cose orribili tra l'altro girato uno nel ristorante colle miliani sotto casa mia il gestore del ristorante gli ha detto ma come andata insomma avete girato un gucci è piaciuto il tipo fa guardate lì con il 95 per cento delle persone mi ha detto che è una cagata te che sei del mestiere dimmi che ci capisci dimmi se stai fra il 5 e il 95 ancora non ho avuto modo di dirgli eccomi qui fra la maggioranza senti ma il cashmere di gucci è buono perché la sensazione che non riceveremo molto presto vabbè tanto gucci fa le cose con il north face hai visto taher l'hai visto no giubbino già prenotato quanto costa un palo due pali tre tre pali cinque pali alla faccia e mi hai prenotato che avere quello per il cane hai preso il giubbino per il cane di gucci north face no comunque far ridere nei cineforum c'è c'è tutto il retaggio anni 70 perché c'è un botto di eroina nei film dei cineforum però diciamo nei licei di prati negli anni 90 non era esattamente all'ordine del giorno train spotting anche tantissimo da cineforum del liceo sì ragazzi dello zoo di berlino bravissimo vabbè amore amore tossico ovviamente amore tossico cioè vabbè però capolavoro assoluto però doveva effettivamente essere bello anche nei cineforum veri quelli per adulti che noi non abbiamo assolutamente vissuto l'idea di andare a vedere un film e poi si chiacchierava si chiacchierava secondo me c'erano tre quattro persone che rompevano i coglioni a tutto il resto del forum e doveva essere comunque una cosa sociale bella di parlare di un film no perché poi dopo si faceva il dibattito il famoso dibattito con tre con tre b che poi è quello di nanni moretti nace bombo parliamo di noi e senti invece vogliamo parlare un secondo del film che ha fatto più danni di tutte le guerre cioè il favoloso mondo di amelie che per il genere femminile è stato veramente ha fatto più danni degli oppiacei negli anni 70 cioè io quando ho visto quel film ho avuto la netta sensazione adesso qua non si scopa per dieci anni ho la sensazione che queste meravigliose creature che mi circondano in questa classe di sesso femminile si piegheranno a quel caschetto per i prossimi dieci anni negandoci qualsiasi soddisfazione sessuale che possa arrivare io ho scopato solo grazie a quel film perché anch'io mi sono fatto quel caschetto lo so e ti mettevi i lamponi sopra le dieci a luca piace madonna tenere l'acqua del bidet un po' più del necessario e grattuggersi per bene a luca piace no no sì io sono diventato amelie ho la mia identificazione con amelie no lo so ma infatti poi era l'unico modo l'unico modo era diventare quello fare gli scherzi quello mette con la parte che deve mettere le scarpe più piccole al vicino antipatico l'uomo di vetro sono così pazza sono mamma io mio cioè il sesso in quel film è affrontato come quei dieci che hanno gli orgasmi a Parigi con lei che guarda da sopra da Montmartre una delle scene più volgari della storia del cinema vogliamo dire pensa a vederlo ad Ancona poi alzare lo sguardo alla finestra e dire insomma poteva capitare meglio no esatto scherzo no no ma no no ma parlano in francese ad Ancona sì 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 oh c'è tre belle ici ad Ancona no lo sai guarda che ad Ancona c'hanno sta cosa che parlano così perché ad Ancona è che c'è una punta di Romagnolo eh no no c'è sta un po' quella cosa così ad Ancona capito devi stare attento sì perché non è le Marche Sport le Marche Sport no no le Marche Sport amico mio ci è venuto ci è venuto ci sono guardata amico mio il favoloso mondo di Giorgio il mondo di Giorgio a Giorgio piace svegliarsi tardi la mattina perché è andata a dormire un pochetto tardi però sta svegliere vigile tutta la notte per controllare se è il numero uno è sempre lui è il numero uno sappiamo Giorgio Montanini che ci segue sta sembra in bull position sta sembra in bull position senti invece qual è il momento in cui hai scoperto Woody Allen? mia madre era grandissima appassionata avevamo un libro avevamo questo libro in casa che era di fianco a Mouse che è un fumetto sull'Olocausto bellissimo sì sì certo quindi avevo capito che quella era la sezione da sfrucugliare impegno esatto impegno e quindi avevo iniziato a leggere lui e da piccolo mi affascinava da morire quindi molto piccolo ho iniziato a scoprirlo non capire niente fino a un certo momento il mio film preferito come comicità è Provaci ancora Sam e il capolavoro è Manhattan penso sia il mio film più bello io l'ho scoperto a 15 anni 15-16 anni al Mamiani il problema di Woody Allen è che ti dà l'illusione che tu possa scopare se sei un ragazzo sensibile senza dover essere un boro quindi secondo me Woody Allen stai ragazzi sensibili come Fast and Furious stai ai bori cioè capito il fatto ah ma allora aspetta non devo essere tipo una branda cattiva per scopare mi basta essere un intellettuale quindi tu sei convinto che da 15 anni di Roma puoi essere fico come Woody Allen che si scopa mia ferro e Diane Keaton però non è esattamente così ne abbiamo fatto le spese tutte però c'è uno ancora più estremo di Woody Allen che l'hai citato prima è Nanni Moretti se tu vedi i film di Nanni Moretti ma ovvio io sono Michele Apicella ma quello so io so sempre stato io se li vedi col senno di poi ti rendi conto che dalla colonna sonora ogni inquadratura è tutto fatto per mostrare quanto è bello il suo glande tutto il tema esatto perché la scelta di Leonard Cohen tutte queste cose sono fatte per far sentire le donne a far rinnervosire le donne guarda lo raddrizzo quel Nanni la barba gliela spunto e se tu capisci come infilarti alla fine è solo questo per fare l'amore devi seguire qualcuno da dietro rubargli la scia e provare a dire sono... ah mi piace molto Nanni Moretti mi piace hai mai fatto sfoggio delle tue conoscenze cinematografiche per sedurre una giovane pulzella? penso sia veramente la cosa peggiore che puoi fare per sedurre una giovane pulzella cioè è talmente tanto una... oddio in realtà quando pensavo di essere figo come Woody Allen ammazza poco me so venduto Manhattan bello ma misterioso mi cidio a Manhattan eh? quello lì? eh? che ne pensi? e vabbè ok Woody Allen Amelie tutte queste cose sai invece una bella cartina di Tornasole per capire chi è di fronte tipo fare parlare ovviamente dei film della commedia italiana Strong tipo Vanzino cioè tu fai una battuta un tormentone una cosa che ti piace e chi è di fronte da come reagisce io capisco se è una persona con cui ho voglia di parlare o no esatto poi può piacere o non piacere ma almeno che li conosca è difficile non conoscerli no 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 vanno conosciuti ed è vero che dipende tantissimo la reazione della persona che è davanti eh tipo che ne so Tahir battuta preferita dei film di Vanzina non sono bello piaccio che è un po' il tuo mantra poi c'è che fa tutta la carriera di Tahir basala su questo Carmelo tua battuta preferita credo che le mie non possano essere più citate cioè lo posso dire di persone ma non possono essere registrate va bene lo teniamo lo teniamo in conto tua battuta preferita la mia battuta preferita è da Youppies quando Ezio Greggio dopo aver fatto l'amore con Corinne Clery le chiede come ti chiami lei risponde Françoise e lui guardando fa ah Françoise è come mia sorella Carla sì sì bellissimo tua la mia battuta preferita è da Le Finte Bionde da Via Zale a Nibaliano quartiere africano a Via Archimede via dei Monti Parioli che sarto di qualità è la tua preferita? quella è la tua preferita in rito? è molto sono molto sofisticato naturalmente ma certo ti abbiamo invitato apposta film i mitici sì Ricky Memphis racconta al suo amico Claudio Amendola che sta per far venire la sua fidanzata che è Monica Bellucci Deborah con la H e Amendola gli chiede ma che è la tua ragazza Ricky Memphis lo guarda e gli dice diciamo che non gli sto antipatico per niente e Claudio Amendola chiosa allora sta in pezzo avanti benvenuto al nostro erano tutte fuori fuori da quelle che generalmente vengono dette però insomma no no ma guarda noi abbiamo una passione per le vostre battute anche perché io e Luca abbiamo 33 anni io 42 21 tu ne hai 42 Carmelo ne ha quasi 65 eppure ciascuno di noi se sente eppure sto Natale se lo siamo levato dalle palle sa di cosa stiamo parlando e di quale film stiamo parlando allora c'è una formula magica per scrivere un film che dopo 40 anni ancora fa ridere e fa ridere 4 generazioni diverse no non esistono formula magica credo che sia soltanto la tenacia nell'osservare la realtà un umorista francese diceva speriamo che il mondo rimanga ridicolo ecco finché il mondo rimane ridicolo chi si mette lì a guardare come con il microscopio gli scienziati alla fine la trova la battuta perché sta lì sta lì intorno basta prenderla che non è così complicato poi è chiaro ogni tanto ci vuole pure un po' di talento beh certo come minimo però una cosa che io apprezzo moltissimo dei vostri film è il fatto che i personaggi parlano come parlano le persone e io ho visto una volta l'intervista interessante nella quale appunto te Carlo dicevate di quanto era importante scrivere come parla la gente oggi nelle commedie io sento i personaggi che sono solo macchiette parlano in un modo in cui nessuno si riconosce e nel migliore dei casi sembrano delle imitazioni brutte dei personaggi dei vostri film cos'è cambiato nella scrittura della commedia secondo te? ma non è cambiato nulla nel senso che guarda la letteratura cambia quando arriva un signore che si chiama Hemingway i quali nei romanzi comincia a far parlare la gente come parla ecco allora senza andare ai massimi sistemi per fare lo scrittore di commedie bisogna andare al cinema naturalmente bisogna amare il cinema però bisogna aver letto tanti libri bisogna aver frequentato i musei ascoltato la musica ma soprattutto bisogna andare al cinema bisogna andare al teatro bisogna andare ai ristoranti bisogna andare allo stadio bisogna salire sugli auto bisogna scopare bisogna andare a divertirsi perché se tu non sei a contatto con quello che il mondo ti regala che sta lì come dicevamo prima allora poi la cosa più difficile è riportare il vero il vero riportarlo all'interno di un dialogo perché di solito quando tu copi il vero diventa finto e lì c'è è un fatto di musica io credo che chi scrive per il cinema ma in generale guarda anche i bravi sceneggiatori fanno sembrare tutto sciolto nel senso è un fatto di musicalità io credo che bisogna avere un orecchio particolare e questo orecchio si è perso perché sai per quale ragione le commedie sono ideologiche ormai chi scrive una commedia vuole raccontare un'idea le grandi commedie italiane non partivano da questo presupposto credo che partissero da un presupposto completamente diverso non c'era mai una tesi non c'erano i buoni i cattivi tu non devi raccontare il film da solo riportava il senso del film vorrei dire quando il signor Risi farà più bella commedia all'italiana che è il sorpasso non deve spiegare alla fine il significato del film c'è un incidente è finito il film oggi ci sarebbe il grande attore di oggi che fa la commedia che fa un monologo su quella cosa lì ma non c'è bisogno ho perso il controllo della mia lancia purtroppo è andata così non ho schiacciato bene fra frizione il guaio è che è andata così anche nella commedia ma volevo chiederti visto che si parla di ascoltare bene le persone e riportare i dialoghi veri al cinema è più una soddisfazione quando si riesce a prendere una piccola diciamo pennellata della realtà e metterla in un dialogo o quando un dialogo diventa un tormentone e la gente parla come si parla guarda io ho scritto forse pure troppo nella mia vita faccio giornalista a scrivere libri ho fatto 120 film insomma non ho scritto i troppi però hanno scritto una una volta una cosa della quale vado veramente fiero ed è riguarda il mio grandissimo amico lo dico anche se ho 42 anni e lui non c'è più che è Alberto Sordi allora io ho conosciuto molto bene Alberto Sordi capisci quando tu nasci in una famiglia in cui tuo padre fa un americano a Roma e poi dopo per forza con Sordi eravamo veramente tanto amici Carlo è stato il suo aiuto regista insomma proprio un grande un grande affetto ma proprio una grande amicizia allora io l'ho studiato molto bene Sordi Sordi sai cosa c'è di sensazione arrivo alla tua domanda Sordi ha guardato gli italiani ma li ha guardati molto bene li ha riportati sullo schermo li ha imitati però è successa una cosa che non succede quasi mai il suo modello è diventato talmente forte che gli italiani hanno imitato lui certo questo è straordinario no? perché non non succede mai praticamente non succede mai ecco allora non so se è meglio sono quei quesiti al quale non esiste risposta secondo me è più bello riuscire a imitare la realtà riportarla proprio sullo schermo senza che nessuno se ne accolga piuttosto che diventare qualcosa di culto che poi dopo perché dopo diventa fastidioso quasi diventa una specie di trappola per esempio io sono trappolato e anche quest'anno questo Natale ci siamo arrivati dalle palle io non c'è intervista che non me lo chiedono allora francamente magari non avessi mai scritto quella cosa però è il prezzo di scrivere cose molto belle che rimangono è normale che poi te le ricordi però a proposito di quanto oggi si è ideologico il cinema voi avete raccontato la borghesia in maniera ma non solo la borghesia però non soltanto la borghesia perché i veri eroi del nostro film sono le classi popolari esatto però voi li avete sempre voluto bene a quei personaggi anche quando facevate un ritratto feroce di un personaggio si sentiva che gli volevate bene oggi la borghesia viene rappresentata ma chiunque in maniera molto moralista sì moralista guarda questa è proprio la lezione di ho avuto il piacere anche la fortuna di conoscere i grandi sceneggiatori di allora quelli che hanno inventato la commedia italiana che ripeto la commedia italiana è un genere molto particolare perché è un tema drammatico questa è la differenza con le altre commedie perché la commedia sofisticata americana era un modo la commedia black inglese è un'altra la commedia grottesca spagnola è un'altra il vaudeville francese noi siamo l'unica commedia che parte da un problema drammatico e lo tratta in maniera leggera è stabilito questo allora i grandi sceneggiatori di allora cito Scola Maccari Zapponi Alge Scarpelli naturalmente avevano sempre il rispetto delle ragioni degli altri vorrei dire i personaggi negativi loro li amavano non perché li assolvevano ma ne vedevano le ragioni tutta la commedia italiana si basa su proprio questo rispetto su questo rispetto dei personaggi allora non erano mai ideologici non erano mai moralisti invece oggi il regista ti fa capire subito da come si veste da come parla da come c'è la macchina quello è il cattivo e questo è sbagliatissimo il cattivo è sempre il meccanico della lancia Aurelia è sempre lui una persona disgustosa che smonta freni esatto però a proposito di di battute adesso mi chiedo una battuta c'è una battuta che mi piace molto perché ho cambiato idea ah sì senza però quando abbiamo fatto Sapore di mare a un certo punto Virnalisi parlando con Ansaldi mi dice sai una cosa ti dico una cosa invecchiare fa schifo ed è molto forte in quel momento nel film perché questa donna ancora bellissima sono 40 anni che dice a un ragazzo giovane che la desidera invecchiare fa schifo ho cambiato idea per cui vedi che bello che è il tempo è un critico galantuomo invecchiare non fa schifo per niente per cui una delle più belle battute del film è finta è falsa bellissimo stavo ripensando la storia Sapore di mare che prima parlavi del fatto che le cose più belle al cinema si esprimono visivamente se non sarebbe il cinema rispetto alle battute e secondo me il finale a mio gusto di Sapore di mare quello è quello scuardo campo contro campo quello è bellissimo quello è stato molto bravo mio fratello ma lì il mio dubbio da spettatore avendolo visto da giovanissimo un po' meno giovane e poi ho studiato cinema il mio dubbio era sempre ma come sei riusciti cioè sembrava che Jerry Cala stesse pensando a dell'altro che montato proprio cinema vero montato con Marina Suma in quel modo dà una sensazione di nostalgia di spacca cuore guarda di solito quando si gira con le musiche non si mettono male le musiche perché poi sicuramente di montare non saresti mai a sincrono in quel caso fu messa la musica forte di Cocciante che già sapevamo che avremmo preso e quella cosa dava molto patos anche a lui insomma bellissimo straordinario me la minano spesso da solo dicendo io da quando è scomparso il mio fratello ripenso anche ai suoi tantissimi pregi anche ai suoi difetti come ce ne ho tantissimi anch'io credo che lui avesse qualcosa di molto particolare che lo chiamerei adesso salgo di categoria perché questa frase viene attribuita al più grande regista di commedia che è Lubic Carlo c'aveva un Vanzina Stotch e cos'era il Vanzina Stotch il Vanzina Stotch era proprio su questi momenti di sguardi proprio in Sapore di Mare cioè all'inizio quando arrivano sulla spiaggia c'è proprio Gerry che si volta a guardare Marina Suma in silenzio c'è la canzone di Gino Paoli e lei si gira e lo guarda e poi dopo c'è uno sguardo di Karina Af al fratello di Marina Suma a Cannavacciolo ecco questi questi sguardi lo stesso in Vacanze subito dopo quando abbiamo fatto Vacanze di Natale il primo sguardo tra Karina Af e Claudia Mendola è uno schiaffo proprio di sentimento che Carlo sapeva fare molto bene mi viene in mente la scena iniziale del mio film preferito vostro che è Le finte bionde quando Cinzia Leone entra in quella palestra io sì io apprezzo quel film perché penso che abbiate raccontato qualcosa prima ancora che accadesse perché penso che avete proprio raccontato quell'ascesa di quella che tu perfidamente chiami i borghesucci quelle borghesucce tutte bionde che è appunto quella categoria di arricchiti commercianti che poi sono diventati i romani il sarto di qualità quelli che poi hanno iniziato a popolare Cortina che rovinavano le vacanze ai conti veneti è stata un po' la nostra fortuna però guarda che su Le finte bionde è successo una cosa strana Le finte bionde è un libro che ho scritto il primo libro che ho scritto aiutato a Mondatori tantissimi anni fa e disse a me stesso non lo faremo mai perché non si può fare invece il mio fratello che era pazzo del libro dice lo facciamo lo facciamo fu un insuccesso pazzesco il film invece il film nel corso degli anni ha avuto un ci sono dei dei gruppi di ascolto soprattutto gay i gay impazziscono ma impazziscono ma impazziscono non c'è gay in Italia che non conosce Le finte bionde proprio è uno dei film di riferimento è il nostro film di riferimento qualche ragione è il nostro riferimento ospite che ancora non c'era noi eravamo gli ospite infatti sei nel posto sbagliato all'improvviso fra noi due che amiamo quel film no ma io adoro adoro questa cosa proprio veramente perché a parte che ho una simpatia travolgente per il mondo gay in generale perché sono più intelligenti più attenti guardano il costume in un altro modo sono un'altra categoria di essere un piccolo feticcio del mondo gay con quel film mi piace molto ci tengo a ridirlo perché nel corso degli anni mi ha creato un sacco di bene le finte bionde non ha niente a che vedere col biondo è una categoria dello spirito ecco perché se no ogni tanto vedo delle bionde che da lontano mi guardano come per dire guarda questo stronzo è l'impressione vedendo quel film anche a tanti anni di distanza è che aveste azzeccato un momento che stava per arrivare in Italia cioè il 1989 sai la cosa che non è cambiato niente non è cambiato nulla Roma è uguale ma anche quel tipo di donna lì è proprio di donna insomma di famiglie di borghesia sì ma guarda noi in quel film abbiamo ritrovato tantissimo è stato proprio il momento in cui la borghesia ha proprio perso la partita esatto stavano giocando sembrava che la borghesia potesse diventare qualcosa di serio invece lì proprio hanno sbregato a tutti i fetici di cui loro sono vittime quindi l'ossessione per le videocassette di Guido Nichelli è la stessa che c'è oggi per le storie di Instagram ma anche lei che va da Sergio Valente a farsi i capelli sono come quelle che oggi vanno da Federico Fashion Style cioè non è cambiato nulla esatto quei due che si separano meravigliose è stupendo quel dialogo che c'è ma insomma ci sono è il gatto è l'unico che non lo fico io in casa è stupendo è una battuta è bellissima vabbè però è un film che andò malissimo per cui ma secondo te perché non andava perché la gente non capiva non li riconoscevano siccome erano tutti così non si riconoscevano è come quando io ho lavorato con Villaggio ho avuto la fortuna di farne due film uno tra i più carini e uno il più brutto che abbiamo mai fatto però Villaggio era un mito assoluto e lui diceva sempre dice sai la cosa incredibile di Fantozzi che tutti stanno e tutti pensano che Fantozzi è quello accanto ma infatti questo è un meccanismo tipico della comicità quando fai personaggi e quindi però tu dici che all'epoca non si volle riconoscere il pubblico nei personaggi che avevate rappresentato posso raccontare una cosa di Villaggio ma certo magari ti racconto una cosa straordinaria noi abbiamo fatto un primo film con lui che si chiamava io non speak english che era graziosissimo un film che ci siamo divertiti tantissimo abbiamo fatto giravamo a Londra la mattina prendevamo il treno e andavamo eravamo come diceva lui siamo dei trenisti perché gli piace molto fare il trenista andavamo sul set in treno perché giravamo nel Kent e vabbè lui ci raccontava parlavamo di Kierkegaard parlavamo di cose altissime e un giorno ci è successa una cosa meravigliosa che mi è tornata in mente ultimamente sulla questione della Brexit perché c'era tutta la differenza tra noi e loro allora lui aveva conosciuto sua moglie Maura a Londra proprio e andava sempre all'epoca quando era molto giovane a mangiare a bere delle cose in un pub che si chiama uno dei più vecchi pub di Londra si chiama Buccaniere allora dice una sera ci dobbiamo andare prenotiamo e questi ci dicono guardate che però alle nove chiudiamo vabbè noi torniamo di trenisti dal Kent quel giorno avevamo fatto un po' tardi arriviamo al pub prenotato una settimana prima in Buccaniere alle nove e uno e allora entriamo dice too late e dice ma come è too late nine months facevano di nine months no too late insomma insistiamo insomma non c'è niente da fare usciamo disperati in un silenzio terribile ci avviamo in una stradina di Londra adesso dobbiamo andare a cercare un ristorante nel silenzio più tale c'è un punto il villaggio fa Capri Ferragosto Antonio del ristorante di Faraglioni sta chiudendo il suo ristorante la sala cinesca sono le 5 del pomeriggio io gli arrivo agli spalle e gli dico Antonio siamo 15 e lui rialzando non c'è problema dottor è meravigliosa che bello che meraviglia vabbè e invece senti riguardo Roma e Milano no posso tornare un attimo iniziato su una cosa come ti ho detto il tuo film preferito visto che stiamo qua chiacchieriamo certo noi ci conosciamo anche poco anche se come dice cosa lo vedi che la cosa è reciproca la stima lo vedi il mio amico l'ho conosciuto stamattina spero che sia così anche con te ma senza volevo dirti qual è invece il film che preferisco o mio probabilmente Carlo lo pensava come me che c'era in una stanza invece stavamo parlando anche il rapporto alla fase dell'età ieri ne parlavamo con Elio Germano e Gabriele Mainetti un film anche così quasi premonitore di tante cose primo film di 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 Germano e in realtà Gabriele aveva fatto pochissimo e poi si è ritrovato dove sta insomma infatti quando mi guarda io insomma questo è molto importante Gabriele quando mi vede arrivare c'è un attimo ci credeci tu mi dicevi che non andava bene la scena mi hai chiesto di rifarla sei volte e comunque quelle erano idee di commedie se vogliamo molto vicine anche alle idee top class della commedia americana cioè permettersi di fare un'idea di spostamento temporale ma noi l'abbiamo sempre fatto questo c'è il tempo è se uno vuole capire quello che abbiamo fatto non dico il mio cinema che detesto sai quelli che i ragazzi che dicono il mio cinema li vorrei menare come dire la mia cucina ecco vabbè cinema di tutti allora per capire quello che abbiamo fatto devi tenere presente che il tempo ci davamo sapore di mare già è un viaggio nel tempo è il primo film che ritorna in maniera così nostalgica ma a spasso nel tempo SPQR che SPQR che racconta Mani Pulita attraverso il tempo è bello torno indietro e cambio vita uno dei miei film preferiti che abbiamo fatto con Bova è proprio sul tempo noi abbiamo sempre pensato al tempo come quando abbiamo fatto il cielo in una stanza che andò discretamente non fu un grandissimo successo dissi al produttore dell'Aurentis che non amava molto il film perché non l'aveva incassato tanto naturalmente e allora gli dissi guarda Aurelio noi dobbiamo smettere di lavorare noi dobbiamo andare a Los Angeles anche perché io conosco Spielberg e ti dirò perché e ci dobbiamo mettere seduti dicendo questo è un film che dovete rifare in America perché c'era una stanza rifatti in America è una cosa una cosa perché conosco Spielberg indirettamente perché quando lavoravo con la Warner il mio amico Paolo Ferrari grandissimo capo della Warner in Italia mi diceva sempre che ogni tanto arrivavano dei telegrammi o insomma delle mail allora dice ma chi cazzo sono di Vanzina tutte le volte che esco contro di loro sono sempre loro primi al box office li voglio conoscere no no non è bello e vabbè scusate io ho interrotto prima stavamo parlando delle finte bionde che è un film che noi abbiamo sezionato messo su cioè ne abbiamo parlato un sacco di volte e alla libertà che avevano molti libertà che diciamo c'era di base nella commedia prima adesso si sta un po' più attenti si tende a stare un po' più attenti soprattutto per le generazioni ancora più giovani di noi parlavamo della battuta quella di quella di Cinzia Leone quando si spoglia Cinzia Leone io di me la so così no 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 quando la cortina si spoglia perché crede che da dietro un uomo la stia osservando e poi si innervosisce perché nota che il ragazzo è omosessuale questo vabbè insomma non me la ricordo non me la ricordavo pensa no me la ricordo io ma veramente sì giuro no no in modo colorito diciamo si riferisce a lui con grande libertà una battuta che oggi non potrebbe passare no ma oggi non possono più passare queste cose no però al di là del potere o non potere vedevamo come fosse messo in bocca ai personaggi proprio perché volevate bene in giro questo c'è da commediografo proprio lo sta dicendo lui non lo sta dicendo esatto quello che oggi si è perso è che probabilmente scusa non ti voglio anticipare ma io sono sconvolto dal fatto che nessuno capisce in tutta questa diatriba sul politicamente corretto che probabilmente se voi rappresentavate un mostro gli mettevate in bocca una battuta da mostro perché era un mostro perché lo era oggi si è molto severi sul politicamente corretto sembra che quello rappresenti il pensiero dell'autore ma non è così ma esattamente come adesso una delle cose che ti dico la verità ci abbiamo pensato tanto poi è stata una battuta che ci ha in un certo senso rovinati faceva molto ridere io ho visto al cinema oggi non la potresti più fare proprio in SPQR c'è la famosa battuta di Christian quando sta con la mia amica Cash sulla biga e che gli fa quel monologo meraviglioso sono un nuovo disperato una vita difficile easy le fammene una pompa ecco allora tu però se ci levate la possibilità di fare anche questo non va bene e non va bene più perché si deve fare anche questo si deve fare anche questo perché il popolare passa attraverso queste cose perché la vita è così la vita è così e allora questo questo rigurgio di moralismo di politically correct adesso diciamo delle banalità perché adesso parlare male dei politically correct è diventato quasi banale quasi banale però effettivamente ha tarpato le ali a tante cose allora io credo vi dico subito una cosa perché così mettiamo le cose in chiaro che il grande problema del cinema italiano è uno solo quelli voi questa generazione qua deve fare un film su di voi e probabilmente voi non lo fate uno perché il cinema è diventato meno importante perché ci avete altri interessi non voi due ma perché temete di non poter raccontare la realtà perché sareste accusati dai social da quello da quello di aver detto una cosa non avete più la libertà voi dovete riprendervela dovete riprendervi la libertà di dire esattamente come funziona nella vostra vita quello che vi dite perché quello è liberatorio e finalmente avremo di nuovo un ritratto del paese lo fece Moretti ha cominciato a fare lui e poi dopo l'abbiamo fatto noi ha fatto Verdone ogni decennio c'ha qualcuno che la racconta chi siete chi siamo ecco invece è latida questa cosa e dipende molto da questa cosa che mi avete detto secondo me e dov'è che si è staccato secondo te qual è il momento in cui c'è stato un click un po' sganciata la realtà raccontata beh no il click è successo in un altro modo secondo me il click è successo che a un certo punto il cinema italiano andava male perché per tante ragioni sono qui siamo a parlare di cose più divertenti non di questo e tutti si sono buttati sulla commedia e chi è arrivato a fare la commedia quelli che non la sanno fare sanno fare altre cose ma non sanno fare la commedia allora la commedia è finita in mano a persone che hanno snaturato completamente questo dici il titolo di un film di questo genere che ti ha fatto proprio incazzare che dici no mamma mia che brutto no guarda adesso ti dico un film che mi è piaciuto anche molto allora guarda io penso lo dico in maniera proprio immodesta veramente immodesta perché siccome ragiono anche insomma poi può essere che ragiono male l'ultimo vero film di commedia italiana l'abbiamo fatto noi si chiama Il pranzo della domenica sì quello perché quella era la commedia classica italiana proprio la commedia allora ti faccio un esempio di un regista che ha fatto forse l'unico film interessantissimo forse più bello degli ultimi anni che è Perfetti Sconosciuti che è Paolo allora Paolo per esempio fa Immaturi sì un film graziosissimo carinissimo fatto bene divertente le musiche di guerra sono perfette insomma l'unico problema è che ha codificato la Happy Hour Generation vuol dire l'Happy Hour Generation è interessantissima però deve parlare pure un po' di quello che succede intorno non possono parlare soltanto la mia storia la tua storia io ti amo la mia storia mi sono rotto i coglioni la mia storia sì ma dimmi una battuta che ti rappresenta la mia storia tutte le trasmissioni delle visie sembra che i ragazzi stanno a parlare soltanto quello quella la mia storia ma vaffanculo ci sarà qualcos'altro ma secondo me il motivo è proprio perché ma questo non c'entra con Paolo Paolo ha fatto un ritratto perfetto di questa cosa qua lo prendo come esempio perché è un bel film ma questo secondo me è anche legato al politicamente corretto cioè oggi è così difficile ti viene detto stai molto attento quando parli con altri quando ti relazioni con altre culture con persone che non sono come te per cui alla fine ti viene detto raccontate sempre è solo te stesso perché tu vali perché il centro sei te si perde completamente il confronto esatto tu sì che vales ma anche i talent show è la stessa cosa facci vedere chi sei però alla fine poi non c'è mai un racconto vero di chi tu sei c'è un po' un'ossessione per lo storytelling guarda io ci sono due cose che detesto solo storytelling però mi fa cagare no ma sì perché non perché e poi non mi piace il neoneorealismo perché guardate il cinema è il racconto il cinema non è il resoconto può esserlo si possono fare dei bellissimi film sono stati fatti ma che palle questo neorealismo va a dire raccontate inventate delle storie inventate dei soggetti inventate delle situazioni questo è il motore del cinema da sempre il neorealismo è importante per carità siamo riusciti addirittura ad arrivare ad avere dei documentari che vanno concorrono all'osca perché sono bellissimi ma è un'altra cosa secondo me sì secondo me bisogna fatti farci all'italiana capito bisogna inventarsi le cose vabbè ma a proposito di invenzione ti con sacco di cazzate no 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 poi ricolleghiamo anche le cose che stai dicendo l'intervista che abbiamo letto bellissima sul foglio dove parlavi del cinema dei Dardenne come inizio di Michele Masneri esatto che stava un po' carinando ero stasera a casa mia Michele salutacelo siamo grandi fan è un genio sì ma guarda tra lui e Minus quando fanno quei pezzi sono una cosa sono spettacolosa cioè finalmente sento di nuovo un giovane erbasino che ritorna a dire delle cose che hanno senso e poi sanno sono colti sono spiritosi vabbè nell'intervista che oggi Edo mi ha segnalato e ho letto io gli ho letto forse l'ha scritto proprio lui la cosa che il calcetto è la Bocconi di Roma nell'intervista e ho detto questa è perfetta è bellissima come definizione ma prima io ti ho interrotto stai parlando di uno degli aspetti fondamentali anche qui dentro esatto la provenienza esatto di Roma e Milano io sono romano Luca ovviamente milanese ma io sono tutti e due infatti perché tu hai la tua famiglia adesso sta uscendo il mio libro che forse spero che sia il più bello che ho scritto io ho fatto un giallo tre anni fa che si chiama La sera a Roma per Mondadori adesso ho scritto un libro che si chiama Una giornata di nebbia a Milano che esce tra il 25 diciamo noi siamo molti ascoltatori Milano adesso se volete parliamo di Milano seriamente sì assolutamente io fu invitato dal mio nemico storico che è Paolo Mereghetti fai sulla critica no ma perché è veramente una storia che non finirà mai perché ci siamo riavvicinati poi invece li litichiamo sempre ma lui è fatto così e io lo perdono io penso che lui perdona anche me un giorno io volevo pure menare per cui penso un po' ma il massimo proprio a dire tra me Mereghetti è una storia stupenda proprio Mereghetti fece un convegno nel Corriere della Sera a Milano su come il cinema aveva rappresentato Milano e io fu invitato non capivo perché perché era il mio nemico e invece lui dovette ammettere che quelli che hanno fatto più film su Milano siano Carlo e Dio credo 17 17 o 18 addirittura perché io sono molto legato a Milano e mi interrompo ti vorrei dire questa cosa qua come dire ho molti amici è come dire ho molti amici milanesi però esatto io ho un sacco amici milanesi ho un sacco amici milanesi ma sai per esempio su Roma e Milano a casa loro possono fare voi volete parlare di cose buffe una delle cose alle quali vado più fiero che è una cosa molto trash invece ma è un mito io ho fatto tutto un film che fece nei riparenti è l'episodio di Boldi in Fratelli d'Italia che torna Carlo Verdone che carica i due posti per Roma quello è proprio meraviglioso c'è un Roma-Milano lì è l'inizio in aeroporto quando poi il volo salta lui diciamo Boldi carica abbastanza su Roma allora scusate vi ho interrotto no ma figurati ma è interessante che siano due romani che alla fine hanno creato quell'immagine di Milano che per tanti anni è stata nell'immagine ero popolare è anche il personaggio del Bauscia cioè Guido Nichelli ve lo siete inventati voi sì ma non so io però ti allargherai un po' su questo perché su questo ci tengo anche nel senso che noi abbiamo veramente amato Milano perché forse perché abbiamo capito che in quel momento era proprio poi dopo sono diventato hanno fatto le fregnacce i boschi verticali ma infatti tu oggi parli molto della decadenza culturale di Milano che se ti sentisse Sala eh vabbè Sala se ne farà una ragione noi abbiamo la Raggi e loro hanno Sala insomma meglio Sala insomma allora il il discorso su Milano però era proprio un'attenzione che avevamo Carlo e Dio per tante cose la musica che si faceva a Milano moltissimo ha c'era dei cantatori romani che sono un mito ma la moda allora noi oltre il calcio eccezionale veramente è un film su Milano ma soprattutto due film che sono fondanti uno è sotto il vestito niente che non c'è niente con la commedia e l'altro è via Montenapoleone e quelli sono due film proprio fondanti su Milano in cui secondo me l'immagine di Milano di quel momento lì è stata proprio messa a bere poi dopo è chiaro Iuppis 3.000 altri film che abbiamo fatto a Milano ma quei due film lì sono molto molto importanti secondo me per capire Milano perché oggi se rivedi sotto il vestito niente via Montenapoleone ti dà un'idea molto precisa sociologica proprio cioè un mio amico sostiene che a Milano la street art sia finta perché a Milano ci sono talmente tanti posti dove potersi esibire che non c'è bisogno di fare street art non c'è bisogno di fare le cose per strada mentre invece a Roma pur essendoci pochi posti dove esibirsi dove proporsi Roma esplode di contenuti allora mi sembra di capire che anche un po' la tua visione di Milano tu parli sempre nell'articolo che abbiamo letto sul foglio Milano ci sono tantissimi social media manager addetti stampa personaggi che curano l'immagine però tu sostieni che a lungo andare la città diciamo perirà sotto questa mancanza di contenuti perché tanti anni fa mi disse un mio amico che fa l'architetto dice la cosa che va fuori moda subito è il contemporaneo il contemporaneo va fuori moda in 5 minuti allora loro hanno puntato su questo c'è questa bregatura del bosco verticale insomma l'Hollywood questa roba qua ora alla fine questo crolla mentre invece il mondo di Simonetta il mondo che raccontava Feltra in Milano Amore Mio le milanesi che raccontava Giuseppe Marotta il mondo del derby quel mondo lì anche i banditi quelli che popolavano il derby anche i film Milano Violenta abitare tutto quel mondo là meraviglioso di una Milano leggermente più misteriosa e più semplice la stanno se ne vergognano quasi questo è terribile è vero io ho avuto la fortuna di essere amico di Giannacci di Beppe Viola di quel gruppo là insomma quella è una cosa seria insomma ma molto seria anche dal punto di vista della comicità perché Romanzo Popolare è l'ultimo film in cui si raccontava l'aiuto del gesto di Monicelli qui si raccontava con orgoglio appunto la Milano Popolare in cui vivevano persone da tutta Italia ma infatti quella grande ubriacatura degli anni Ottanta anni in cui noi siamo nati di cui abbiamo tanto sentito parlare il crudino esatto ubriacatura col crudino crudino della mattina presto è una cosa stupenda passati passati trent'anni voi che l'avete raccontata molto bene diciamo come dice Mollica vizi e virtù di quegli anni come si dice che noi ne pagheremo per sempre le conseguenze noi trent'anni di oggi come trent'anni dopo come li vedi quel mondo Iuppies ma guarda io sono rimasto molto colpito da alcune cose vabbè il fatto Iuppies è strano è una cosa strana Iuppies è un film che oltretutto quando l'abbiamo fatto De Laurentiis non capiva il titolo diceva e ti aggiunse sotto i giorni di successo ma Iuppies traduzione mi piaceva il film ma non mi piaceva il titolo diceva non lo capirà nessuno nessuno come non lo capirà nessuno nessuno invece però non lo capito ma Iuppies è stata una specie di persecuzione perché ancora oggi arrivano dei lettere mail cioè di ragazzi che mi mandano i soggetti rifacciamoli Iuppies che è una cosa che io non era un momento molto particolare perché parlavamo di questo ah sì di come si come si sono evoluti quegli Iuppies sì insomma questo lo trovo io però quello che mi ha fatto veramente molto effetto che quest'anno l'anno scorso ho fatto un film che ha avuto un enorme successo su Netflix che è Sotto il sole di Riccione questo film è stato fatto da due ragazzi abbastanza giovani registi che era il primo film You Nuts specializzati in altre cose video musicali e la musica di Tommaso Paradiso e quello che mi ha colpito è che loro sia dal punto di vista formale che dal punto di vista estetico che dal punto di vista proprio ideologico quasi vedono gli anni Ottanta come qualcosa di assolutamente mitico allora quello che è strano è che Carlo e Dio che avevamo avuto moltissimo successo in quel periodo fummo accusati di essere i cantori degli anni Ottanta per cui con un pregiudizio ideologico sembrava era il discorso che facevi prima siccome abbiamo parlato degli anni Ottanta eravamo per Reagan per la Thatcher per gli Scolni per Craxi appoggiavate ma invece Iuppies è tutta una grande presa per il culo e parla proprio della decadenza misteriosamente questa cosa che era un disvalore adesso è diventato un valore nel giovane generazione questo mi fa un effetto enorme per quello te lo chiedevo ma non ti so dare la risposta vorrei dire non riesco a capire sono le domande migliori eh sì lo so non lo so posso mangiare uno di questi ma certo in Iuppies c'è una cosa che il momento finale la scena finale dove loro dopo quando dopo aver guardato Agnelli che vola fanno una cosa che a noi fa molto ridere che scherzare sui soldi scherzare sui soldi che hai che non hai questo era proprio il concetto fondamentale del film ma in generale è una cosa sulla quale voi ma io quando la vedo mi fa molto ridere perché da molto la misura vera degli italiani cioè i soldi che hai in tasca i soldi che non hai quelli che vorresti avere ed è una cosa della quale non viene presa molto in giro da tutto un altro tipo di satira e di comicità perché è come se i soldi se li fai ti devi un po' vergognare beh sì c'è molto pudore sui soldi in Italia cosa che in America non c'è esatto in America la prima scelta che lavoro fai sì how much you make per year anche in modo esatto dall'altra parte un po' esatto eccessivo è una società fondata su quello e invece da proprio una misura molto diversa a noi facendo spettacoli dal vivo quando si scherza sui soldi sia sugli stereotipi che su quanto costa o è ancora ragione in lire queste cose la gente ride proprio di gusto perché è proprio una cosa che ci mette tutti sullo stesso miserabile piano è vero e anche quella è una cosa che un po' si è persa è un'altra cosa che si vede spesso nelle commedie case straordinarie per persone che fanno lavori che dicono questo tu non puoi permetterti quei metri quadri a quei prezzi quello è fare personaggi finti esatto quello che trovo è meraviglioso però questo andiamo su un storino non di commedia capisco anche le ragioni quello che trovo fantastico quando guardo Montalbano oppure i bastardi di Pizzo Falcone entrano sempre dentro delle case che sono quattro saloni una cosa meravigliosa i Fustenberg i Fustenberg ma chi è la nonna che ha lasciato questi 500 metri quadri in centro a sci però questi quando ci così si parla un po' del cinema che ho fatto con Carlo non il mio cinema abbiamo fatto anche spesso dei film sulle vacanze non tantissimi poi come si pensa ma insomma un po' perché poi noi abbiamo fatto pochissimi film di Natale che stanno nell'immaginario che siamo tutti gli altri abbiamo fatti noi hanno fatto sempre i seguiti dei nostri film è vero è vero vabbè parlando delle vacanze le vacanze mi diceva proprio Dino Risi io con Dino Risi ho avuto un rapporto sensazionale ho avuto anche il piacere di fare delle cose con lui minori però una mitica che è il commissario Locatto che insomma non ci scherzerei sopra sul commissario Locatto Dino che era fantastico mi diceva sempre diceva insomma una vacanza nel sorpasso per esempio è formidabile perché è il momento in cui gli italiani diventano attori perché allora tu arrivi e dici che sei ricco non c'è una lira che sei singolo invece che sei sposato è una bugia colossale è una zona franca è una zona franca meravigliosa che dura poco per cui è divertente questo è proprio un tema da commedia forte e Risi poi ci ha insegnato un'altra cosa bellissima che poi Carlo ha preso con tutto che il musicista di casa perché il pianista sono io l'ha colta meglio lui di me all'inizio e che Risi diceva quando tu in un film devi mettere tante canzoni perché contestualizzano la storia è verissimo è vero a dire tu cominci le vacanze di Natale con quella musica e tu capisci dove sei in che periodo sei che meraviglia questo Risi grazie Dino senti voi siete anche stati i primi a parlare degli immigrati nei film comici perché voi avete rappresentato tantissima immigrazione i ragazzi della terza C c'era il nostro amico Isaac che faceva il collaboratore domestico di Zampetti Nichelli certo certo di Nichelli sì ma il mondo diciamo dell'immigrazione è affascinante anche dal punto di vista del film comico perché è anche lì è così è sì è vero e tu hai detto una cosa molto interessante tu hai detto i parioli sono un quartiere morto il futuro dei parioli è nei filippini che lo popolano è sì è vero è vero io mi ha raccontato per esempio questo è un inizio strepitoso di film il mio amico Neri Parenti che tanti anni fa aveva a casa lavorava una coppia di simpaticissimi signori e signora filippini lui partì per le vacanze perché lui si è andato a Firenze a Natale trovare la sua famiglia esce con la macchina ma fai conto neanche era arrivato sulla salaria torna indietro perché si era dimenticato una cosa entra in casa e c'erano 24 filippini che facevano blackjack stavano era una cosa meravigliosa è stupendo è stupendo beh questo pure guarda scusate torno sulle fette bionde ma c'è quel momento stupendo in cui a piazza Mancini si parlano le cameriere e anche lì c'è una battuta stupenda perché una delle due dice all'altra io lavoro a io lavoro a Ponte Milvio se non mi sbaglio e l'altra invece dice ah beata te io lavoro a Corso Trieste è una rottura di palle la tristezza esatto una tristezza perdonami è vero ecco ora vedi a questo proposito però ti chiedo buona sapersi buona sapersi buona sapersi poi arriva lei che sta col macellaio fantastico devono giocarsi il giorno per andare a ballare esatto per andare a ballare io esco il mercoledì è più fino buona sapersi buona sapersi che bello però una battuta del genere uno penserebbe che sia incomprensibile fuori dal raccordo anulare però io per esempio sono convinto che in tutte le realtà particolari ci sia una verità universale peraltro la comicità romana è un linguaggio quindi voi vi ponevate mai il problema scrivendo battute del genere che potessero non essere comprensibili a Trieste anche questa storia di Roma romacente eh romacente no per esempio i più grandi successi dei nostri film li facevamo proprio a Milano a Triviso assolutamente così poi dopo a un certo punto e devo dire che lì la Lega ha avuto il suo peso perché ideologicamente era cominciato a dire Roma 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 alla fine ci hanno sfranto pure su questo capito ma insomma io ridevo sono romano ma che vuoi che non rido su mio padre registrae i totò che non rido con i napoletani o che non rido con il cozzarone che è il mio idolo o che non rido con il pozzetto ma scherziamo insomma voglio dire proprio il fatto dei dialetti è proprio la cosa più bella che abbiamo in questo paese anzi proprio è quello che ci rende così diversi degli altri ed è una comicità così variegata anzi più veniva sottolineato meglio era ma come no cosa che invece si perde spesso sia nel commedio ma anche nei film drammatici molto spesso ambientati a Roma probabilmente o a Roma o anche in posti dove diciamo le film commission elargiscono i fondi e però magari una serie ambientata in Trentino in Alto Adige però parlano tutti romano una famiglia di milanesi siamo arrivati sulle Dolomini però siamo di Milano piacere però purtroppo gli attori c'è il padre veneto con la figlia che quello anche secondo me allontana le persone dai film ma io come faccio a credere a una storia del genere però invece il fatto del dialetto io sono proprio maniaco su Roma non ne parliamo a dire io posso farti una differenza tra i prati il trionfale è vero perché è così cambia tantissimo cambia tantissimo e ti dico la verità che questa forza del dialetto io la cominciai a capire veramente sul serio quando quel genio di Diego Abba D'Antonio cominciò a lavorare con noi e che aveva inventato il personaggio che poi dopo abbiamo scritto insieme abbiamo migliorato anche insomma ha inventato lui il Terruncello no? Milanesi al 100% lì c'è tutto si svela tutta la forza di quello che non è del luogo che si crede del luogo però questa differenza in cui la lingua è sempre la linea di demarcazione sociale culturale umana anche questo è importante i dialetti sono importantissimi nei fichissimi questo è estremizzato in modo perfetto la specie di Romeo e Giulietta ibrido mio fratello è ibrido noi lo diciamo anche del podcast questo è un ibrido esatto e senti qual è un attore con cui avresti sempre voluto lavorare Carlo Verdone ma perché siamo anche tantissimi amici e perché perché Verdone lavora con Verdone e si concede raramente se è concesso per Sorrentino e se è concesso in manuale d'amore con Veronesi ma mi piacerebbe moltissimo ma adesso a parte scherzi perché proprio abbiamo una sintonia umana e sentimentale è molto forte noi ci sentiamo non dico tutti i giorni ma quasi forse alla fine l'unico amico vero che c'ho nel cinema diciamo di quel livello lì per conosco tantissime persone è lui perché quello con il quale sono più sai un giorno ultimamente abbiamo fatto una passeggiata una piccola passeggiata insieme poi insomma uscire con Verdone non è semplice perché immagino Verdone è come Totti ruppono le scatole a me penso a loro insomma rompo le scatole mi fa anche molto piacere di essere fermato e parlare con delle persone e dicevamo dicevamo noi in fondo abbiamo avuto una grande fortuna che i ragazzi di oggi non vanno più a fare un cinema dove tu arrivavi al tuo film e c'erano la gente che aspettava fuori e vedere il cinema di mille persone dentro con la gente che rideva chi fa la commedia questo è il più grande non c'è una questione di soldi e poi soprattutto abbiamo detto una cosa in fondo noi abbiamo stiamo facendo una maratona da tanti anni e abbiamo visto tanti centometristi che ci hanno passato avanti e poi dopo li ritrovavi che stavano perché quello che è difficile nel cinema è fare questa lunga maratona e lui l'ha fatta io ho avuto anche io la fortuna di non so perché di farla per cui adesso abbiamo tante cose che ci regano mi dispiace non aver mai lavorato con lui qual è il tuo film preferito di Verdone lui si arrabbia un sacco bello perché si dovrebbe arrabbiare perché lui dice non è così infatti lui si è detto un film di un altro l'attrice un comica che ti ha fatto più ridere che dice lei è veramente la più grande con cui abbiamo lavorato o non lavorato beh di attrice io ho lavorato sia con Monica Vitti che con Maria Angela Melato che con insomma ho lavorato con delle attrici forti beh penso che la vita è la più brava di tutti nettamente proprio mi dispiace dirlo è la più brava di tutti un'altra categoria senti come è stato lavorare con Leslie Nielsen che per noi è un mito assoluto un piacere perché quando tu tocchi i grandi calibri non so due che proprio ci piacciono anche poi Leslie ma l'attore che noi abbiamo amato con Carlo della Ragazza era Elliot Gould per esempio quando abbiamo fatto i miei primi 40 anni abbiamo lavorato con degli attori strepitosi è come se fossi te io vedo il cinema il cinema anche se quelli che vincono gli Oscar quelli che lo fanno sul serio ma si legge nei libri di Hitchcock le interviste quelli di Billy Wilder quando il cinema si fa tutto in lo stesso modo poi lo fai meglio o peggio allora ti trovi con uno che parla come te è di una semplicità unica ecco l'esigenza è fortissimo una cosa poi la semplicità con cui è entrato dentro un mondo italiano in una storia italiana con quelli che parlavano in italiano ma lui se ne fregava stava lì però era fantastico benissimo che meraviglia bene noi se continuiamo finito fatti domande no no però ammiamo anche perché come diceva ormai la dicono tutti sono anni che la dico ma insomma che il cinema è la vita la quale si tagliano i momenti noiosi diceva Triuffo o Hitchcock e sono indecisi tutti ma insomma bello eh il cinema è la vita la quale si tagliano anche le interviste è giustissimo bene allora ringraziamo moltissimo Enrico Vanzina per essere stato con noi soprattutto Tahir vedi che è bravissimo a fare le inquadrature e ad essere il nostro un po' il contraddittorio perché lui ha 21 anni noi non ti abbiamo presentato non so se come va Carmelo tutto bene noi prima gli abbiamo chiesto dicci la battuta preferita di un film di Vanzina è entrato in crisi perché per lui no in realtà perché non posso dirla perché non sapevo com'è a me piace Carmelo Cristiano Cardini quando c'ha la battuta con l'architetto che penso che col tempo abbia preso un significato più forte non diciamola non diciamola va bene allora grazie infinito Grazie Vanzina per essere stato con noi grazie a voi grazie